C'è un brano famosissimo di George Gershwin, si chiama It Ain't Necessarily So. In italiano la traduzione potrebbe essere, non è detto che sia così. 15 anni fa, quando è venuta l'idea di creare un nuovo festival a Roma, mi hanno detto, tu fallirai, fallirai. È impossibile cominciare qualcosa di nuovo a Roma. E sapete cosa? Non è detto che sia così. Mi hanno detto, il pubblico romano non ti appoggerà mai. Non ti appoggerà mai. Sapete cosa? Non è detto che sia così. Mi hanno detto, è impossibile creare una missione didattica, portando a Roma dozzine di giovani talenti da tutto il mondo per studiare ed esibirsi accanto ad alcuni dei più famosi artisti internazionali. E sapete cosa? Non è detto che sia così. Questo è un festival romano con un piccolo accento americano. è un festival per i cittadini di Roma che amano la musica, che vogliono avere un'esperienza bellissima, culturale, indimenticabile. Andate e divulgate la buona novella. Qualcosa di magico accade ogni giugno nella città interna. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.